Scusi, ha preso del pesce? Delle cozze In questo momento c'è il fermo pesca qui nella zona, lo sa? Sì, sì, lo so Comunque il pesce, vedo che lo trovo ugualmente, non rinuncia a una buona mangiata di pesce? No, non rinuncio Come lo farà? Questo qui con gli spaghetti Perfetto, buon appetito Grazie In questo momento c'è il fermo pesca, però venite comunque con fiducia ai banchi Sì, ci piace il pesce, sì, c'è scelta, quindi ci accontentiamo Allora, nonostante il fermo pesca, da due giorni comunque vedo che il banco è pieno, quindi c'è comunque attività Ma sì, la piccola pesca va avanti, soglia, le pannocchie, pannocchie piccole, sardoni, molluschi sono strani Qualcosa c'è, qualcosa di importazione, si può lavorare Ha preso del pesce, ha comprato del pesce? Razza Razza? E i gamberoni Razza e i gamberoni? Sì Come li fa? La raggia con i peperoni e i gamberoni con le cipolle A posto C'è il fermo pesca in questo momento comunque, però vedo che insomma si viene con fiducia al mercato Eh sì, così si va bene, sì, il pesce c'è Lei viene comunque con fiducia al mercato? Sì, con fiducia, anche perché ormai lo conosco abbastanza E quindi insomma sa cosa comprare Sì, certo E benché molti siano informati del fermo pesca in atto in questo momento La pescheria di Fano è gremita sia di avventori e anche di buon pesce sui banchi Bello, bello, un bel pesce Un bel pesce? Un bel pesce? C'è il fermo pesca in questo momento? Eh insomma Forse non è il nostro ma probabilmente È un po' sarà, è un po' sarà buo Forse non è un po' sarà, è un po' sarà